Salve a tutti ragazzi e benvenuti su Elite Gaming, benvenuti in questo velocissimo vlog. Vi avevo promesso un annuncio bomba per quanto riguardasse il Lucca Comics, questo ieri sulla mia pagina Facebook. I social sono importanti ragazzi, tutti i link li trovate come al solito in descrizione. Quindi eccoci qui per spiegarvi cosa succederà nei prossimi giorni, perché Lucca Comics inizierà domani, mercoledì 31 ottobre 2018, e io sarò presente per tutti i giorni della fiera, che sono cinque. I primi tre come semplice visitatore, sarò lì con degli amici quindi se mi doveste vedere in giro starò semplicemente visitando la fiera come tutti gli altri. Ma domenica, amici miei, c'è una novità molto interessante, infatti il sottoscritto insieme a Kiko saremo i caster del torneo di Destiny 2, ufficiale, sarà un torneo di ESL e tutte le informazioni adesso legate le troverete in un comodo link in descrizione e parlando proprio di questo torneo ci sono ancora dei posti per alcuni team liberi. Vi lascerò anche il modulo di iscrizione con regolamento, modalità di partecipazione e premi in un secondo link anch'esso in descrizione. Dove tutto ciò? Nella Cattedrale Sport in piazza San Romano. E per chi non potesse recarsi direttamente in fiera sede dell'evento, non preoccupatevi sarà predisposta un'apposita diretta su Twitch, vi darò tutte le informazioni del caso sui miei canali social. Quindi se qualcuno di voi volesse partecipare vi ricordo ci sono ancora dei posti, a tutti gli altri invece mando un invito a seguire questo torneo in loco, direttamente quindi a Lucca, per gli eventuali presenti o direttamente su Twitch. Personalmente si tratterà di un'attività molto interessante, sia perché a tutti gli effetti si tratta di una novità anche per me, sia perché sono sicuro verrà fuori qualcosa di grandioso. Comunque vi ho già rubato abbastanza tempo, vi ricordo che in descrizione troverete tutte le informazioni legate all'evento, al torneo, al come partecipare e ai miei canali social e noi ci sentiamo alla prossima, ci vediamo direttamente a Lucca. Ciao a tutti ragazzi!